vieni qua vieni vieni papà madonna che faccia spaventosa ma perché c'hai i guanti perché c'hai i cazzo togli i guanti aspetta te piglio te piglio stai qua eh che c'è papà eh non so dove devo pigliare dove devo portare che ne so oh madonna dov'è il changing table non è che sta giù non mi guarda così ci sto provando perché non va il boom quando no questa aspetta aspetta e papa andiamo da qua per me è bellissimo bene ragazzi vi porto in questo spaventosissimo gioco il gioco si chiama baby in yellow e lo potete scaricare gratuitamente vi lascerò il link in descrizione non so se è gratuito anche su steam sinceramente non ho verificato ma dal link che vi lascerò in descrizione potrete decidere di non fare un'offerta al creatore se siete un po' tirchietti o se avete già speso tutti i vostri prossimi stipendi pensione e liquidazione in giochi come faccio io quindi iniziamo allora prende qui per iniziare voglio iniziare immediatamente ciao piccolino quanto c'è bello che vuoi prendi la bottiglia dal frigo la bottiglia dal frigo come se correndo a stacca non si può o di beron e qua piccoli enti dal biberon o quanto c'è bello hai cagato hai cagato e un cagapiano aspetta un attimo che ci sta qua sopra vedi porca di quella assomiglia uno che lavora con me c'avete la stessa testa c'avete a vedi prendi il nuovo nappi ho perso un creatur dove sta oh che c'è fai là dai papà vieni qua fate cambiare la mutandina vieni qua ma io ti metto qua ok fermo ti vedo ecco di qua andiamo a letto da INIE PIP ISTRE ma perché ci stanno forse perché era per holloween vieni qua che belino che bei capelli che c'ha sempre krylin ti mancano solo di così in testa dove stai c'è sta l'altro gatto no ok vai oooo e neggia la but잡a noi ci sentiamo e leggiamo una favoletta ah vatta guarda la televisione questa è la parte che mi piace di più dove sta la televisione? ah sta là ah mo ci sediamo finalmente mi sta venire il sonno e cala ah buona non è già puttana mo avevo chiuso gli occhi ah sta arriva che cazzo è stato? ehi porca di quella puttana di tua sorella tuo padre tua cugina dove sta il bambino? qua non ce sta me ne sono cagato addosso ah bambini ma come cazzo ci sei arrivato qua? porta il bambino a letto andiamo e dai sei belì da metti il peluche giusto? eh ma questo oh ah la figlia della mignotta che fa la paperella? eh aspetta un po' piglio un altro che? ma aspetta? che? ah ma è il gatto ah giusto il gatto il principe è il gatto da ma ho te ma ho te oh la pecorella andiamo a sede oh che bello muo ma dormendo vedi? ee u ee due ee tre bene ragazzi fermiamo qui la prima puntata di baby in yellow e noi ci rivedremo presto perciò preparate i pannoloni nuovi ciao ciao Grazie a tutti.